allora oggi andiamo sul simeone oggi c'è ricco mi ha promesso che mi porta nel flow oggi non ci sono gli euro avete la prolunga per caricare dopo possiamo caricare io non sono saputo eccolo il view point view point zero hai pagato l'abbonamento per il view point hai scaduto qua com'è? andiamo venga a messa un ghiaccio un ghiaccio un ghiaccio c'è una sorta di ghiaccio è stata una manovra delicata ti vedo rigido dal freddo è come un picconello lo sdromo no? sdromo in acqua ma non sono stati a buttare il sale qua andiamo a mettere le catene e ti vedo bene ti vedo bene il terreno è abbastanza impegnativo che bello guarda il lago bello qua taglia sul tornante taglia tornantini stretti veloci non sono io molto bene e questo è piacevole e questo è piacevole? non arriva non arriva il tiro finito ho solo una batteria però due sdromi eh questo indica il livello solo per avere dei parametri fino ci vedo